Dopo aver aspettato un'ora e mezza i bratwurst, Titu mangia un'ora e trentadue minuti per questo. Questo è il successo di questa lunga attesa. In questa piccola attesa abbiamo avuto un litro e mezzo, sono lì. Quale sono? Cos'è? Cos'è? Ha sborrato! Il booster sborra! Qui siamo da Erta, mangio benissimo. Wow, che buono! In realtà entra in una piscina. Un'altra attesa? Un'altra attesa! Io ho la muffa sulle gambe verso nord, non è l'attesa. Quelle mucche erano... Quelle mucche erano vitelli! Figa! Figa, silenzio perché si mangia! Perché sborra? Due, tre, tre... Che schifo! Vieni da seccare!